Abbiamo aggiustato il collegamento con Alessia Peraro, andiamo subito da lei. Ciao Alessia, ancora buonasera. Buonasera a voi. Ecco, allora parliamo di questa iniziativa. Alessia è un'iniziativa importante e coraggiosa che in questo momento dà anche speranza per un futuro molto incerto, come hanno già raccontato e come stiamo raccontando dai giorni sulla nostra emittente. Voi però state già pensando al futuro. Sì, diciamo che nel corso di questa maratona pazzesca che è durata 48 ore abbiamo sviluppato un'idea che c'era venuta in mente a grandi linee, ma siamo riusciti ad andare nel sottile grazie allo straordinario lavoro di Andrea Napolitano, il videomaker, di Linda Monti, la grafica, per creare una comunicazione come destinazione che possa essere univoca. univoca perché vorremmo che l'idea fosse sposata da tutte le attività commerciali, ma anche dalle amministrazioni e chiunque faccia turismo sull'isola d'Ischia. Questo in vista ovviamente di una ripartenza turistica appena sarà possibile. Avete cercato di ideare anche un logo, noi tra pochissimo vedremo alcune immagini, ma soprattutto il messaggio di sicurezza di un'isola sicura che trasmetterete attraverso poi un videopromo, se ho capito bene, che andrete a pubblicizzare in un periodo prossimo, in attesa dei protocolli sanitari che saranno necessari ovviamente. Esatto, sì. La duplice funzione, appunto, la duplice valenza di questo claim, ideato sempre da Linda Monti, è Ischia sicura di te per cercare di sviluppare la sicurezza sia dal punto di vista sanitario, ma anche un prendersi cura che è un po' tradizione della nostra ospitalità, quindi di un benessere che sia a 360 gradi, che ovviamente consideri le terme, l'accoglienza, ma anche l'enogastronomia, la proposta naturale della nostra splendida isola legata alla sentieristica, al mare, e tutto quello che la nostra isola può sviluppare. Esatto, la comunicazione prevede appunto l'utilizzo di questo logo che verrà utilizzato attraverso un merchandising che funzionerà un po' da icona di questo circolo virtuoso che speriamo sposino tutte le attività commerciali dell'isola. L'altro è appunto il video che è stato creato nella sceneggiatura durante l'hackathon for the travel industry e verrà appunto girato appena sarà possibile, che vuole un po' cercare di spiegare questo messaggio, questo messaggio che abbiamo creato e possa anche mostrare come sarà il viaggiare a partire dalla fase 2 in poi. Alessia, il progetto ovviamente è anche spinto, sostenuto da Federalberghi, Ischia e Procida, di cui tu sei componente attivo tra l'altro. Ecco, questo è un aspetto importante perché significa che anche il mondo alberghiero si affida ai giovani in questo momento per cercare di dare un segnale importante per la ripartenza isolana. Abbiamo bisogno in qualche modo di convivere con il virus e per le imprese turistiche e per i lavoratori stagionali che sulla nostra isola sono tantissimi. Assolutamente sì, l'associazione, posso testimoniarlo, è proprio al lavoro giorno per giorno per cercare che questa ripartenza possa essere organizzata al meglio sia per gli autori insomma degli ospitali che per tutti coloro che ne sono coinvolti, quindi lavoratori ma anche territorialità, comuni eccetera. E siamo felicissimi, esatto abbiamo sottoposto questa idea a Federalberghi che ci ha voluto appoggiare, infatti il team era appunto benedetto insomma dalla Federalberghi Ischia che ha deciso poi in sede di consiglio di sposarlo e proporre l'adozione per tutti i soci e speriamo che questo possa essere un piccolo esempio in maniera tale che anche tutte le altre associazioni dell'isola possano seguire Federalberghi e cercare di condividere la nostra idea. Grazie Alessia, complimenti, aspettiamo il video a questo punto. Buona serata. A presto, grazie.